Buonasera a tutti, grazie a Paolo Cognetti per essere venuto questa sera in mezzo a noi. Grazie, grazie a voi. Grazie. A dispetto delle montagne che amava e frequentava con passione e competenza a partire dalle grigne, il destino di Antonia Pozzi è stato invece infelice. È morta suicida all'età di 26 anni, più o meno l'età in cui Paolo cominciava a scrivere i suoi primi racconti. I loro destini si sono incrociati nel libro che presentiamo questa sera. Gli chiederò tra poco com'è che ha incontrato Antonia Pozzi. Prima vi dico due cose su come l'ho incontrata io, me lo ricordo benissimo. Era il 2004, ho fatto il conto ieri sera, nel mio tavolo alla redazione di Repubblica dove lavoravo, arrivò tra i tanti libri che arrivavano quotidianamente uno che mi colpì. Si intitolava Per troppa vita che ho nel sangue, aveva in copertina la foto di una bellissima donna o giovane donna che mi ricordava vagamente mia madre durante le sue gite in montagna. Io naturalmente non c'ero ma c'erano le foto in casa. Una donna non bella nel senso da copertina ma allegra, tonica, viva. Sfoglio il libro e vedo che è morta appunto a 26 anni lasciandosi morire. Non riesco a capire il motivo, leggo il libro, questo libro mi appassiona, mi sorprende la sua storia, mi sorprendono i primi indecasilibri scritti a 17 anni con una padronanza tecnica abbastanza straordinaria. E da lì nasce questa mia passione che poi ho coltivato negli anni organizzando incontri e dando spazio sul giornale, nelle pagine che coordinavo, articoli di vario tipo. Perché una serata su Antonia Pozzi a Bellano? Anche per la vicinanza con Pasturo, il paese della Valsassina, ai piedi delle Grigne dove penso tutti voi siate stati. E che era in qualche modo il luogo del cuore di Antonia, dove il papà aveva comprato una casa e dove lei trascorreva molti periodi andando poi da casa sua a camminare sulle Grigne. E un piccolo e bel aneddoto legato anche al nostro festival. Nella chiesa di Pasturo ci sono gli unici dipinti murali di Giancarlo Vitali, papà di Sara, di Paola e di Velasco. C'è un ingresso, sono le tavole della Via Crucis, ma c'è questo grande dipinto con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, circondato da bambini, che erano i bambini ritratti dal vero di Pasturo. E la mamma di Antonia andava spesso, quasi tutti i giorni, a visitare il lavoro in corso e a controllare l'esito di questo lavoro. Perché Cognetti, che parla a brillano di Antonia Pozzi, perché appunto Paolo Cognetti, anche lui mi sono accorto e innamorato di Antonia, e a Schiele ha dedicato un bel libro intitolato L'Antonia. Dico due cose su di lui, per chi proprio non ne sapesse nulla, anche se è dubito. Comunque è nato a Milano il 27 gennaio del 78, ha studiato matematica alla Statale, poi ha cambiato strada per diplomarsi alla civica scuola di cinema. E sicuramente qualcosa di cinematografico c'è anche in questo libro, che è fondamentalmente un bel libro di montaggio, dove poesie, fotografie e lettere di Antonia vengono assemblati con un bel lavoro di montaggio di Cognetti, che poi usa i suoi testi come raccordo e interpretazione di queste opere di Antonia. Realizzato come documentarista lavori sugli Stati Uniti, in particolare su New York, salvo poi decidere che ai grattaceri di New York preferiva le cime della Valle d'Aosta. Ha esordito come scrittore nel 2003, spero di non sbagliare le date, con Fare Ordine, era un racconto che vinse il premio Subway Letteratura, che fu inserito poi l'anno successivo in un'antologia. Ha vinto un premio importante, anche se relativamente di nicchia, nel 2009, che si chiamava il premio Lo Straniero, assegnato dalla rivista omonima, fondata e diretta da Goffredo Fofi, che è uno dei più grandi, originali critici letterari italiani. E nella motivazione si riconosceva in Cognetti, tra i giovani scrittori italiani, talento, rigore, moralità di scrittore vero, uno dei più attenti a sentire e narrare il disagio delle nuove generazioni. Disagio che lui ha espresso nel libro Ragazzo Selvaggio, che è uno tra i libri che trovate nel bookshop fuori dalla sala, che poi è approdato alla scelta di ritirarsi in montagna, dove tuttora vive per una parte dell'anno. Le montagne sono quelle della Valle d'Aosta, dove trascorreva le vacanze da bambino e dove appunto ha scelto di vivere in una baita a 1800 metri d'altezza a Estul, frazione di Brusson, in Val d'Aias. Lo dette tutte giusto? Era terrorizzato dalle pronunce. Se uno va a stare in alto, è perché in basso lo lasciano in pace. È una frase di uno dei due ragazzini, i protagonisti del film, Le otto montagne. La dice l'altro, ma vale anche per lui. Grazie appunto alla montagna, in particolare alle otto montagne del titolo, del romanzo edito da Inaudi, ha conquistato il successo nel 2016 e ha vinto il premio strega nel 2017. Il libro è la storia tenera e drammatica dell'amicizia tra due bambini, poi ragazzi, poi adulti, Pietro, il ragazzo di città, e Bruno, il ragazzo di montagna, un ragazzino che pasqualava le mucche nei prati, lungo la riva di un fiume. Tu sei quello che va e che viene, io sono quello che resta, dice Bruno a Pietro Paolo Cognetti. La location, dicevo appunto, lo spazio abitato da questa amicizia è soprattutto la Valle d'Arosta, non solo. Il libro è stato tradotto in 40 paesi, il recensore di un quotidiano tedesco importante ha paragonato Cognetti a Hemingway, London, Mark Twain, autori che nelle otto montagne ritornano insieme anche ad altri. Da questo libro, e mi avvio alla conclusione, è stato tradotto un film presentato a Cannes di due registi belgi dai nomi abbastanza impronunciabili, comunque sono una coppia, Charlotte... Siamo sulla notizia senza volerlo. Un'ultima citazione cinematografica, ho visto nei giorni scorsi su Rai Play, dove vi suggerisco di andarla a cercare, Sogni di Grande Nord, che è un documentario di viaggio, di avventura, di cui è protagonista Paolo insieme a un suo amico, e lui è anche l'autore dei testi, la regia di Dario Accocella, giusto? È una sorta di road movie, che partendo da Milano arriva in Canada e dal Canada raggiunge l'Alaska fino sulle tracce degli scrittori più amati da Paolo, Hemingway, Carver, Toro, London, Jack London, Melville, ne parleremo poi anche dopo. Per l'animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. Altra frase, tratta dalle sue opere. Infine, due parole sul libro, si intitola L'Antonia, poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi, l'editore è Ponte alle Grazie. La prima frase è C'era una ragazza milanese innamorata della montagna e di questa ragazza, appunto, Paolo racconta la vita scandendola attraverso le case che ha vissuto, la famiglia, gli amori, gli amici, le inquietudini, fino appunto alla drammatica decisione finale di lasciarsi morire. tralascio i dettagli del libro perché se no la faccio troppo lunga e ti chiedo senz'altro come e quando hai incontrato Antonia Pozzi. Era il 2008, io avevo appunto fatto la scuola di cinema e una mia ex insegnante, Marina Spada, regista milanese, fece uno dei primi documentari su Antonia Pozzi. uscito proprio quell'anno. Io ho una bella amicizia con lei che era rimasta dopo la fine della scuola e quindi mi ha sempre coinvolto, comunque si è sempre confrontata con me sui suoi progetti e quindi ho assistito alla lavorazione di questo film e ho conosciuto Antonia grazie a questo. Poi in realtà in quel documentario Marina, che è una milanese non innamorata della montagna, aveva completamente lasciato da parte volutamente l'aspetto, l'amore per la montagna di Antonia, si era molto concentrata su Milano e quando io ho scoperto quanto invece fosse importante per lei anche quest'altro mondo, ecco che quella incontro fortuito è diventato qualcosa di diverso. L'ho letta per anni, ho letto biografie su di lei, è uno di quegli scrittori a cui mi sento particolarmente legato proprio in maniera intima da scrittore, ce ne sono tre o quattro, sono un po' le tue stelle polari, quelli che senti più vicini. Eroi letterari le chiari. Eroi, sì, anche eroi, è vero. Voci, voci amiche, anche a cui torni nei momenti di difficoltà, quando ti sbarrisci, quando non sei più bene da che parte andare, allora sai che lì in quei libri ritrovi la bussola. e poi è successo che l'editore Pontelle Grazi che ha questa collana Passi curata insieme al Club Alpino Italiano mi aveva chiesto di curare un'antologia poetica. Io avrei dovuto scegliere le poesie e scrivere un'introduzione. E ho accettato con entusiasmo, però quel tipo di libro mi interessava più di tanto perché ce ne sono veramente molti. Antonia è andata fuori i diritti nel 2008, 70 anni dopo la morte, e a quel punto qualunque editore può pubblicare. Quindi ci sono tantissime raccolte di lei curate da tanti nomi con tanti fili conduttori. Non mi interessava fare l'ennesimo libro di poesie della Pozzi. E ho scoperto le sue lettere raccolte in un librone molto bello che si intitola Ti scrivo dal suo vecchio tavolo e mi ha completamente sorpreso quest'altra voce perché la voce nelle lettere è diversa dalla voce nelle poesie come spesso succede. Ho incontrato lì una seconda Antonia e poi vedendo le sue fotografie anche quelle non sono ancora state pubblicate tutte ma l'editore Mimesi si sta facendo dei begli albi annuali. Hanno cominciato dall'ultimo anno dal 1938 e sono proprio pubblicati così come lei li aveva impaginati perché lei che faceva tante fotografie poi teneva costruiva questi albi anche graficamente appiccicando le fotografie scrivendo delle didascalie sono proprio quasi dei collage sì 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 e lì ho scoperto ancora una terza Antonia che era tutta occhi e che aveva degli interessi molto chiari cioè si vedeva molto bene che cosa catturava il suo sguardo e allora io che ho fatto documentari per diversi anni ed è un linguaggio che continua a piacermi molto veramente mi sono sentito come uno che avesse trovato del girato in un vecchio baule in Super 8 e adesso cosa ci faccio con queste bobine e mi è venuto in mente di fare un montaggio proprio come hai detto tu di poesie lettere e fotografie bastava una voce fuori campo ma veramente volevo esserci il meno possibile che tenesse insieme questi materiali e raccontasse un'antonia ecco devo dire che leggendo le cose che esistevano su di lei e conoscendola un po' di più mi montava anche un certo spirito di come posso dire raccontare qualcosa che io avevo percepito di lei che non era stato ancora raccontato perché è stata molto inquadrata la Pozzi da certe sue biografie per esempio quando ho parlato di questo progetto a mia sorella che è una persona colta che però la conosceva poco mi ha detto ah sì la Pozzi è la scrittrice cattolica e subito ho detto no anzi penso che non fosse nemmeno cattolica ma appunto è stata raccontata il suo suicidio è la prima cosa che si parla quando si parla di lei il suo amore triste per questo professore è la seconda cosa di cui si parla al padre e più o meno questi sono i paletti della vita della Pozzi c'era tanto altro c'era anche un sacco di allegria c'era un sacco di amore c'era un sacco di desiderio di libertà nelle lettere si scopre anche un sacco di ironia che nelle poesie non c'è e allora volevo raccontare quest'altra ragazza e darle un po' di respiro a questa figura che è sempre raccontata così tragica proiettata verso la sua fine non è così e quindi questa è un po' la mia Antonia ma spero di essere stato fedele a quello che lei era in realtà in otto montagne la mamma di Pietro che poi è tua mamma dice ognuno di noi ha una sua quota prediletta in montagna un paesaggio che gli somiglia e dove si sente bene qual è la tua quota e qual era quella di Antonia la mia è 1898 che è la quota di casa mia cioè l'altimetro ogni tanto da qualche metro in più in meno ma più o meno ho capito che è quella è la quota in cui sulle Alpi specie sulle Alpi occidentali più o meno finiscono o comunque i boschi diventano molto monoculturali sono boschi di abeti e larici sono boschi di conifere poi a 2000 2200 metri insomma poco più in alto di casa mia finiscono inizia questa prateria alpina che in Valle d'Osta è ancora molto vissuta nel senso che è l'altezza degli alpeggi che vengono abitati da giugno a settembre quindi questa montagna che non è abitata tutto l'anno a fine settembre se ne vanno via tutti infatti anche io faccio un po' fatica a rimanere vado su ogni tanto ma è una montagna dove non c'è più nessuno l'inverno lo sento particolarmente ostile ed è una montagna che si apre non è la montagna oppressiva del fondo valle non è la montagna ombrosa dei boschi è la montagna dove in Val d'Aiasi in particolare si apre al sole all'aria c'è tanto cielo e inizia e inizia a sentirti un po' in alto poi prima di arrivare in alto ancora ce ne vuole è una montagna di prati di acque di torrenti di laghi quella è sicuramente la mia quota è una montagna dove si respira quella dell'Antonia immagino fosse ai 600 metri di pasturo che lei lei era una milanese pochi giorni fa con anche tu anch'io sì lei nessuno dei due è puro sangue quindi anche in questo ci siamo ci assomigliamo infatti per quello che notavo pochi giorni fa sono andato con Guido Agostoni il sindaco di pasturo che è qui tra noi è stata posta una targa in via Mascheroni dove Antonia non era proprio la sua casa natale ma viveva lì da bambina e ha vissuto lì tutta la sua vita e il comune Milano ha questo carattere che non ama particolarmente i suoi figli comunque non ama tanto mettere targhe se vai in altre città ce ne sono molte di più e quindi lì anch'io ci passavo sempre sapevo che era la casa della Pozzi ma mancava una targa poi è successo che un suo fan toscano è arrivato a Milano e ha detto ma come non c'è una targa e tanto ha fatto che ha convinto a sue spese questo è il comune di Milano e la targa l'ha comprata il lettore e il comune di Milano ha dato il permesso di appenderla e abbiamo fatto questa piccola cerimonia e comunque ecco volevo dire quella casa lei non ne ha mai scritto anche nelle lettere compare pochissimo ho trovato ho faticato a trovare descrizioni di quella casa ho scoperto che c'erano antichi quadri e c'era un pianoforte a coda e poco altro una poltrona però lei la trascura la ignora non la descrive mai e invece lei dice casa mia quando lei dice casa mia intende la casa di Pasturo e quando lei dice il mio piccolo a volte dice il mio dolce brutto paese il mio dolce triste paese lo tratta sempre un po' male Pasturo con un affetto un po' rude da montanari il mio paese per lei è Pasturo e quindi siamo a 600 metri come saprete sotto la grigna un paese contadino non era un paese dove da villeggiatura ecco non era un posto dove i milanesi ricchi andavano in villeggiatura era un posto dove suo padre che era un arricchito e che quindi stava cercando di entrare nella buona borghesia milanese da un po' dalla porta sul retro aveva trovato una villa secondo me per quello che ho intuito io aveva trovato una villa a buon prezzo dove fare il signore senza spendere troppo e questa era la casa dove Antonia passava tutte le stati fin da bambina dove ogni tanto fantasticava di ritirarsi come una sorta di Emily Dickinson della grigna a scrivere poesie dove fotografava tante delle sue foto sono state fatte lì e dove ancora ci sono i segni di lei perché appunto a Milano si fa fatica a trovarli i segni dei passaggi della Pozzi c'è questa targa in via Mascheroni c'è una targa dentro il liceo Manzoni c'è una targa che la ricorda la Zelata la Zelata è una tenuta di campagna una cascina praticamente vicino a Bereguardo vicino a Pavia dove abitava la nonna anche questo era uno dei suoi luoghi è dove la è dove la Giulia Maria Crespi fondatrice del FAI ha fatto prima in Italia il riso biodinamico ecco questo mi manca per cui era ammirata come profetessa del biologico e ironicamente presa in giro da chi diceva che un chilo di quel riso costava 100 mila lire è un posto molto bello dentro al parco del Ticino se volete andare a cercare ci sono se andate è interessante la Zelata perché se andate alle gallerie d'Italia al museo di Banca Intesa in Piazza Scala la collezione dell'Ottocento che è arrivata a Banca Intesa dalla Cariplo ci sono almeno 4-5 vedute della Zelata che dà l'idea di che importanza avesse anche nell'immaginario comune la nonna era proprio una contessa dell'Ottocento manzoniana non dico a caso nel senso che era un erede per qualche via traversa del Manzoni e avevano la famiglia aveva queste vaste tenute lungo il Ticino l'Antoni andava lì e queste risaie questa campagna questo fiume facevano parte dei suoi paesaggi di infanzia invece questa montagna era più ramo paterno c'era il padre che appunto aveva scelto di venire su di qua era una grande camminatrice anche questo ma questo lo capisco tutte le volte che leggo libri di quei tempi cioè loro camminavano molto più di noi ma andavano in bici lei si spostava in bicicletta andava a pavia in bici per dire per cui camminare in montagna non era come oggi che hai bisogno di allenarti per andare in montagna loro si allenavano nella vita quotidiana quindi a un certo punto quando lei decide di allenarsi sul serio perché? perché si è messa in testa di fare il cervino nel 1933 nel 34 passa l'estate al Brueil che era quella magnifica conca che esisteva prima che la distruggessimo costruendo Cervinia prima c'era una conca sotto il cervino 2000 metri e lei andò lì con un attendamento del CAI nell'estate del 33 e si innamorò del Cervino fu una delle montagne sue della vita si mise in testa di poterlo fare quindi tornata a pasturo iniziò ad allenarsi per dice voglio camminare voglio imparare camminare ancora di più senza stancarmi e una notte da sola prende da casa sua quindi dai 600 metri di pasturo ai 2004 della vetta della grigna 1800 metri di dislivello niente affatto uno scherzo da sola di notte e poi scrive questa cosa a una sua amica il giorno dopo in una lettera come dire come aver fatto un allenamento ed essere andata su a vedere l'alba e quindi ecco questa era la sua montagna familiare un po' triste quando lei inizierà a viaggiare era una ragazza ricca per cui iniziò a fare crociere nel Mediterraneo vacanze in Sicilia in Liguria vacanze all'estero un'estate a Londra a imparare l'inglese un'estate in Austria a imparare il tedesco quindi pasturo poi divenne più il luogo dell'autunno dove lei andava in settembre una stagione anche per me un po' triste perché la montagna si ritira in montagna l'autunno arriva prima settembre già lo senti e quindi un luogo dove ripensare alle cose successe scrivere poesie scrivere lettere agli amici un luogo un po' nostalgico rimane sempre questo per lei e lì ecco quello è il posto dove veramente ci sono le tracce del suo passaggio c'è la casa che è ancora lì non è praticamente stata toccata lo studio è un piccolo museo a pasturo sono molto gentili affezionati e affezionati ad Antonia Pozzi quindi se volete visitare questa stanza questa casa un modo lo trovate telefonate andate a citofonare vedrete che verrete accolti c'è il suo tavolo la sua finestra alcune delle sue cose c'è il cimitero dove è seppellita anche qui mi sembra di avere scoperto un piccolo legame perché lei a un certo punto in una lettera degli ultimi anni scrive a un amico sono andata sulla tomba della signora Anna a Milano la signora Anna è Anna Kulishov di cui Antonia era un'ammiratrice e io abito adesso vicino al monumentale a Milano quindi è un luogo dove vado spesso e sono andato a cercarla questa tomba della signora Anna la tomba della signora Anna in realtà è la tomba della signora Anna del signor Filippo nel senso che Turati e la Kulishov sono seppelliti insieme nel linguaggio della funebre funerario c'è questo masso coperto di edera l'edera è utilizzata nei cimiteri per ricordare gli sposi è una specie di ricorda un legame eterno e il masso che è stato portato fin lì è un masso di queste parti è un masso di canzo perché la famiglia di Turati proveniva da lì e quindi tra i tanti monumenti funebri del monumentale di Milano quasi tutte statue enormi eccetera c'è questo masso di montagna che sembra veramente quando lo trovi cosa ci fa qui un masso erratico ed è il monumento di Anna Kulishov e Filippo Turati e Antonia Pozzi ha voluto come suo monumento funebre un masso della Grigna quindi io credo che si sia ispirata alla signora Anna dove lei sta a Pasturo c'è questo piccolo bellissimo cimitero di montagna la famiglia Pozzi è un po' fuori luogoli perché oltre al masso della Grigna poi hanno voluto metterci un cristo grande di bronzo che sembra quello sì uscito dal monumentale di Milano e poi ci sono questi due affreschi molto importanti nella chiesa parrocchiale nella chiesa di Sant'Eusebio a Pasturo prima hai ricordato Vitali parli di Aldo Carpi esatto invece lì Aldo Carpi era quest'altro importante pittore milanese insegnava a Brera fu deportato ad Auschwitz c'è un suo libro che poi ho recuperato grazie alla Pozzi che è una sorta di diario del Lager però anche anche disegnato nel senso che lui aveva fatto tutti questi schizzi del Lager tremendi dei suoi compagni di prigionia dei morti delle fosse comuni e poco prima di essere deportato il padre di Antonio Pozzi gli aveva commissionato questi due affreschi nella chiesa di Pasturo e lì sembra di entrare vi ricordate alla fine di Mediterraneo il film di Salvatores quando c'è il tenente che entra nella chiesina e ritrova i volti dei suoi commilitoni che lui aveva affrescato in quegli anni di guerra perché a Aldo Carpi era stato chiesto di affrescare il volto di Antonia che è lì nella chiesa e lei compare in una scena che è un lasciate che i pargoli vengono a me c'è il Cristo che accoglie tutti questi bambini che lo circondano forse saranno anche quelli i bambini di Pasturo e una ragazza che ne accompagna due tenendoli per mano e questa ragazza è l'Antonia ha proprio il suo volto dall'altra parte dell'altare c'è una funerale della Vergine una scena che io non sapevo neanche che esistesse non c'è evidentemente nei Vangeli e c'è la la Madonna che viene trasportata in un feretro e due un uomo e una donna che sono i primi del corteo funebre e quest'uomo e questa donna sono i genitori della Pozzi quindi se volete vedere che faccia avessero tanti anni dopo sono ancora dipinti lì nella chiesa di Pasturo sono passato stamattina a rivedere tutto e devo dire che malignamente per un attimo ho interrotto l'interruttore romantico ho acceso quello maligno e mi sono riflettuto sul potere che aveva il papà di Antonia perché occupare mano militare il presbiterio con delle tele dedicate al tele o fresche adesso non ricordo dedicate alla figlia vuol dire che del resto era anche il podestà era stato il podestà di Pasturo per anni era signore padrone lì era anche il cimitero anche la collocazione della tomba del cimitero in asse con l'ingresso fuori scala rispetto alle altre guarda è un personaggio molto interessante questo padre molto controverso aspetta si facciamo chiamiamo sul palco Marco Signorile un attore e nostro amico che ci leggerà due poesie e poi riprendiamo così diamo abbiamo scelto cinque poesie di cui quattro di Antonia e una vi dirò poi alla fine di chi ne leggiamo due adesso e due dopo sono Vertigine scritta nel 29 a Pasturo e Acqua Alpina scritta nel 33 al Braille in occasione di quel campeggio di cui parlava vuoi dire due cose sulle poesie prima o vogliamo riprendere dopo le facciamo lei solo che solo che il più delle volte lei scriveva annotava per esempio questa poesia scritta al Braille porta due date mi sembra Braille Milano Braille Pasturo quindi prendeva punti iniziava a scrivere la poesia magari in montagna e poi Pasturo o a volte Milano era luogo dove la poesia davvero prendeva forma quindi c'erano due momenti un po' come la fotografia che prima che era così invece più più immediata poi veniva appunto impaginata raccolta ripensata in questi albi così succedeva anche alla poesia vertigine vertigine firmata pasturo 22 agosto 29 e acqua alpina ebrele luglio 33 pasturo 12 agosto 33 afferrami afferrami alla vita uomo la cenge è stretta e l'abisso è un risucchio spaventoso che ci vuole assorbire vedi la falda erbosa da cui balza questo zampillo estatico di rupi somiglia a un caposanto sconfinato con le sue pietre bianche io mi vorrei tuffare a capofitto nella fluidità vertiginosa vorrei piombare sopra un duro masso e sradicarlo e stritolarlo io con le mie mani scarne strappare li vorrei ma siccome a croce di cimitero una parola sola che mi desse la luce e poi berrei agolate gioiose il sangue mio afferrami alla vita uomo passa la nebbia lambe sperde l'incubo mio folle fra poco la vedremo dispanarsi sopra le valli e noi saremo in vetta afferrami alla vita oh come dolci i tuoi occhi esitanti i tuoi occhi di puro vetro azzurro azzurro gioia di cantare come te torrente gioia di ridere sentendo nella bocca i denti bianchi come il tuo greto gioia ad esser nata soltanto in un mattino di sole tra le viole di un pascolo ed aver scordato la notte ed il morso dei ghiacci stavamo parlando del padre e capita a fagiolo la prima poesia che è dedicata al grande avversario del padre cioè il professore Antonello Antonio Maria Cervi si si detto da lei nelle lettere Antonello Nello professore di liceo tu tra l'altro è interessante perché difendi lei si innamora di un professore di liceo avendo lei 15-16 anni e lui una trentina credo e naturalmente lei ci soffre molto il papà le fa un mazzo così e tu dici pensateci voi se vostra figlia vorrei ben vedere se vostra figlia sì perché appunto in queste biografie sommarie diciamo così della Pozzi si parla sempre di questo grande amore impedito dal padre e poi si collega a questa alci la mano chi l'avrebbe autorizzato esatto padri però è una storia intensa nel senso produce anche molto in termini di poesie di lettere aveva 17 anni quando scrisse questo afferrami alla vita uomo e la poesia era idealmente rivolta a questa guida alpina che la portava ad arrampicare in Dolomiti a Misurina e in realtà il sottotesto era evidentemente afferrami alla vita era questo professore un po' timido che secondo me non afferrava allora era un invito amoroso un imperativo amoroso e sì in realtà appunto l'Antonio Maria Cervi sempre per andare sui riferimenti contemporanei ai miei ricordo un po' un professor Keating un capitano dell'attimo fuggente nel senso che era questo scapolo sardo cresciuto a Napoli è andato a lavorare a Milano che veramente viene descritto come un uomo tutto dedito all'insegnamento era la sua grande vocazione era la sua grande passione che viveva da solo in una stanzetta monastica e poi tutta la sua vita era dedicata ai suoi studenti insegnava latino e greco appunto al Manzoni al ginnasio in quarta ginnasio Antonia lo incontrò lo ebbe solo per un anno lui entrava in classe e chiamava gli studenti fratelli e sorelle prestava i libri leggeva le poesie dei poeti latini e greci ma anche alle volte delle altre poesie e non a caso quell'anno lì Antonia inizia a scrivere evidentemente travolta proprio come gli allievi dell'attimo fuggente iniziano a tutti a scrivere poesie ho rivisto proprio questa così questa atmosfera poi viene trasferito a Roma dopo il primo anno quindi Antonia incontra questo professore e subito lo perde però lui è talmente entra talmente in intimità con i suoi studenti che iniziano a scriversi lettere lei non è l'unica conosce anche degli altri ex studenti che sono rimasti in rapporti con il professore quindi da lontano si scrivono lettere uno dei temi su cui non vanno d'accordo è che lui è molto credente e lei no e quindi lui vorrebbe quasi convertirla insomma comunque la spinge verso Dio la spinge verso la religione e lei un po' si tira indietro resiste poi a un certo punto a 16 anni lei fa questo viaggio con i genitori o con la madre a Napoli da Genova a Napoli in nave poi lì abita il professore e quindi si scrivono il professore l'accompagna a Pompei e quel giorno lì succede qualcosa perché l'Antonia torna da Pompei ed è innamorata persa quell'estate inizia a scrivere poesie proprio come un fiume in piena e a chi le spedisce? al professore Antonio Maria Cervi lei scrive poesie afferrami alla vita uomo e gli le spedisce capite che ce ne sono anche altre ancora più decise tipo guardami sono nuda inizia così canto della mia nudità e il professore che anche lui non è proprio tutto centrato secondo me a un certo punto a Milano a Natale arriva a Milano vede l'Antonia e cosa pensa bene di fare di andare da suo padre a chiederle la mano della figlia della figlia 17enne adesso vi presento Roberto Pozzi Roberto Pozzi era il figlio di due insegnanti quindi non aveva origini particolarmente borghesi che nella vita davvero si era fatto strada da solo si era laureato in legge e a Milano era riuscito a diventare avvocato degli industriali Falc per esempio era un suo cliente partecipa alla prima guerra mondiale come ufficiale finita la guerra a Milano riprende questa carriera molto rapida che sta facendo aderisce abbastanza presto al fascismo perché uno come lui ovviamente è molto abituato a cavalcare i tempi e è un uomo deciso amante degli sport un omone grande e grosso gli piace più il mare della montagna spesso quando l'Antonia e la madre sono a Pasturo lui è sull'Adriatico a fare i bagni fa soldi fa soldi con gli affari dopo un po' si compra una miniera di ferro qua al Pian dei Resinelli diventa il podestà di Pasturo questo è Roberto Pozzi per cui quando arriva questo insegnante di latino e greco a chiedere la mano della figlia io credo che Roberto l'abbia quasi cacciato fuori di casa a calci quando scopre che l'amore è proseguito nonostante i suoi divieti addirittura gli viene voglia di andare giù a Roma sfidare a duello che ancora si usava spada o pistò o rivoltella non so come usasse questo Antonello questo era questo era il padre per cui l'Antonia che gli vuole anche tanto bene a questo padre l'affetto che emerge dalle sue lettere mi sembra veramente sincero e il padre l'ama moltissimo nonostante abbia un sia veramente abbia un carattere duro sia un autoritario però attenzione è un padre che manda la figlia a Londra a studiare l'inglese in Austria a studiare il tedesco che le compra una macchina fotografica che la manda ad arrampicare con Emilio Comici che la manda a fare il campeggio del CAI a Braille Cervini insomma ora diciamo un padre chiuso convenzionale eccetera però in effetti l'Antoni abbia tutte le possibilità di esplorare di viaggiare di imparare nella sua vita e questi sono i suoi due primi uomini i suoi due tra cui lei si cerca di muovere capite che ci sono ecco grandi passioni in gioco in questa vita almeno questo lo possiamo dire parlavi dei due primi uomini ce ne saranno molti altri c'è un capitolo in particolare del tuo libro che si intitola Gli studenti molti altri intendo non soltanto amori ma anche amici e professori uno dei capitoli più interessanti a livello così diciamo anche sociologico di storia culturale della vita di Antonio Pozzi sono gli anni alla statale di Milano col professor Banfi Banfi è uno dei non fascisti che hanno accettato di prendere la tessera del fascio per lavorare tranquilli e per fare un lavoro sotterraneo diciamo di antifascismo evidentemente non esibito però diciamo portare avanti un ragionamento di una cultura diversa da quella del regime intorno alla cateda di estetica di Banfi negli anni 30 da statale crescono cresce una classe dirigente milanese perché adesso li racconterai tu comunque tra i compagni di corso di estetica di Antonia c'è Vittorio Sereni che diventerà il capo il gran capo della Mondadori oltre che poeta c'è Alberto Mondadori che è il figlio di Arnoldo che fonderà il Saggiatore eccetera 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 leggendo una biografia la biografia appunto che mi fece scoprire Antonia io ebbi la netta sensazione che dietro l'apparente magari anche reale affetto del professore dei compagni di corso nel corso di Antonia ci fosse un bel po' di maschilismo anche di il disincanto quasi ironico con cui commentano le sue poesie il suo essere romantica raccontaci qualcosa appunto di questo capitolo eh sì sono i primissimi anni 30 il precedente docente di estetica è stato ha scelto di prendere una cattedra negli Stati Uniti perché la tessera non la voleva fare era stufo di minacce eccetera dico solo una cosa il regime chiede la tessera nel 31 c'è un libro bellissimo di Giorgio Boatti uscito da Inao di anni fa che si intitola preferirei di no non c'entra niente ma c'entra mi piace dirvelo perché sono letture importanti si intitola preferirei di no e racconta le storie degli unici 12 sottolineo 12 professori italiani su 1300 che dissero no al fascismo rinunciando al loro lavoro rinunciando al loro lavoro e rischiando anche e sì quindi era questo ma in generale ovviamente l'università italiana sotto il fascismo era una specie di covo di sovversivi in cui bene o male insomma facendo cultura la critica la critica al regime era quasi implicita e i suoi compagni erano questi sì magari anche nomi oggi meno conosciuti li conosce chi ha studiato quel che ha studiato storia dell'arte che ha studiato storia della filosofia cioè Remo Cantoni cioè Dino Formaggio Enzo Paci erano tutte figure di intellettuali che sarebbero sbocciate nel dopoguerra che anzi nel dopoguerra avrebbero costituito questa nuova classe dirigente della cultura italiana che usciva dal fascismo e si doveva completamente reinventare uno dei grandi forse il più grande rammarico il secondo grande rammarico per la morte di Antonia il primo era per lei per la sua vita il secondo è che forse era proprio una figura di intellettuale che poi non c'è stata che non è sbocciata che l'Italia non ha avuto nel dopoguerra e quindi ecco questi compagni le volevano molto bene si crea veramente una forte amicizia con alcuni di loro con Vittorio Sereni che era forse l'unico che capiva l'Antonia poetessa un'amicizia molto fraterna con altri un amore Remo Cantoni era un ragazzo molto bello era biondo per metà tedesco ebreo tra l'altro e aveva un sacco di ragazze intorno una di queste era anche l'Antonia con cui abbia sicuramente una breve relazione sentimentale e poi un'amicizia benché un po' amareggiata da questo amore che non era andato bene questi erano i suoi compagni che la venivano a trovare a Pasturo lei diceva sempre tutte le persone che amo quelle che ho più care io vorrei che venissero qui perché questa è la mia casa perché questo è il mio paese quando le vedo arrivare qui sono felice quindi le invitava insisteva e poi le ospitava a casa sua durante l'estate Remo Cantoni per esempio era stato qui per un lungo periodo a curarsi di un problema ai polmoni erano tutti affettuosi con lei ma da una parte questi di cui si innamorava come Remo Cantoni non riuscivano a ricambiare il grandissimo slancio lei l'aveva chiamato questo pazzo desiderio di donarsi e si sente proprio e dall'altra parte non c'era un altrettanto pazzo desiderio di lei c'era un affetto più tiepido più timoroso e quando lei veramente diceva facciamo il passo no dall'altra parte il passo non arrivava questo l'aveva fatta soffrire molto davvero perché è successo più di una volta nella sua vita e poi nei confronti della sua poesia questi erano studenti molto seri di estetica di filosofia la poesia non era sicuramente il loro linguaggio prediletto il loro linguaggio prediletto era la prosa era la saggistica era la critica letteraria era la critica filosofica e quindi loro che le sue poesie le leggevano dopo un po' le invitarono anche sì però Antonia adesso basta con queste poesie cioè che le scrivi da quando avevi 17 anni afferrami alla vita uomo dai su adesso occupiamoci di cose serie e questo invito le arriva un po' da tutti forse proprio tranne che da Vittorio Sereni quello che le fece più male perché poi vabbè loro erano i suoi compagni e va bene ma quello che le fece più male forse fu proprio quello di Banfi lei a un certo punto fa questa cosa un po' matta sta lavorando alla tesi si sta lavorando con Banfi alla formazione letteraria di Flaubert una tesi che poi sarà pubblicata dopo la sua morte e le viene in mente a un certo punto nello studio di Banfi alla Statale di dirgli professore io scrivo anche delle poesie le va di leggerne qualcuna e subito dopo si pente di questa cosa torna a casa e nel suo diario dice ma cosa ho fatto sono matto ho chiesto a Banfi di leggere le mie poesie adesso ormai gliele devo portare quindi è lì che sta cercando di capire quali portargli non scrive poi i suoi diari non ci sono più adesso poi dirò che cosa ne è stato ma non sappiamo cosa abbia detto il professore ma è abbastanza chiaro che il professore sia stato piuttosto severo con queste poesie e le abbia detto sì adesso ricominciamo però a lavorare su Flaubert e quindi lei non solo si sentì rifiutata come innamorata dai suoi uomini ma si sentì rifiutata come artista e questo forse fu il secondo ancora più pesante rifiuto a volte proprio mi chiedo che cosa ero siccome sto monumentale ci vado veramente spessissimo pochi anni fa il comune il famigerato comune di Milano ha scritto il nome di Antonia Pozzi nel Famedio ma sarà stato cinque anni fa non so non so perché abbiano aspettato così tanto non ho fatto ricerche a proposito comunque sapete che nel Famedio c'è la tomba del Manzoni c'è il busto di Giuseppe Verdi eccetera poi ci sono queste grandi lapidi dove Milano ricorda i suoi cittadini illustri o presunti tali perché poi c'è tipo vabbè non voglio fare no a volte sono solo ricchi altre volte sono anche bravi e Antonia Pozzi è tra le ultime che hanno che hanno scritto forse non so se sotto Pisapia o il primo mandato di di Beppone Sala e e quindi ecco a volte mi viene in mente ma chissà se Antonia ci vedesse qua nel 2022 cent'anni dopo quasi che era anzi cent'anni dopo che era qua lei a parlare di lei chissà se andasse adesso al monumentale dove andava spesso e vedesse ma Antonia Pozzi ma quella lì sarò io no sarà sarà un'altra non poteva veramente non poteva credere che sarebbe stata ricordata perché per lei era talmente chiaro che che nessuno la la conosceva le sue poesie non furono mai pubblicate in vita nessuna delle sue poesie e quando lei si si uccise il padre fece questo bel lavoro intanto distrusse i diari perché sono praticamente sicuro che Antonia avesse un diario una persona così di quella estrazione sociale una persona che scriveva non poteva non tenere un diario ne sono rimaste pochissime pagine non so perché scampate alla alla distruzione e poi il padre che conosceva la poesia della figlia e fece anche questa bella cosa di pubblicare dopo la sua morte in forma privata era ricco e potente quindi chiese alla Mondadori di stampare un libro oggi andremo su Amazon lui invece chiese alla Mondadori di stamparlo le poesie le scelse lui quelle che non gli piacevano le distrusse e quelle che riteneva un po' sconvenienti le cambiò quindi cancellò delle parole cancellò dei versi ne riscrisse altri ci sono voluti un sacco di anni è degli anni 80 90 il lavoro di chiamiamolo così restauro recupero in buona parte dovuto a una studiosa che si chiama Suor Honorina Dino prima sono stato un po' severo con i cattolici ma Suor Honorina ha fatto un grandissimo lavoro di riscoperta e proprio di recupero degli originali di Antonia e oggi non potremmo mai essere sicuri di averli tutti però rispetto all'edizione curata dal padre c'è molto più materiale originale e quindi la recensione di Montale che fu tra i primi a recensirla era sui testi editi dal padre quindi a maggior ragione dopo guerra negli anni 50 Sereni inizia a lavorare in Mondadori Sereni e il padre e Roberto Pozzi mantengono rapporti ci sono lettere tra loro due e quindi attraverso il lavoro di questi due uomini ci sono due edizioni successive degli anni 50 e poi l'ultima mi sembra dei primi anni 60 della Pozzi e a un certo punto c'è questa prefazione di Montale a cui evidentemente Sereni riesce a fare avere il libro e Montale la definisce uno dei più importanti poeti del nostro novecento quindi questa cosa era già stata detta da Montale negli anni 50 poi la letteratura è così questa soprattutto la poesia credo viene dimenticata forse per essere anche per essere così romantica gli anni 60 70 forse non erano il momento giusto per i poeti romantici e viene riscoperta negli 80 e nei 90 e poi con gli anni 2000 che veramente c'è dal punto di vista editoriale oggi si è entrato in libreria è praticamente impossibile non trovare una raccolta della Pozzi c'è addirittura in edicola nei librini spero che ci sia anche nelle antologie per la scuola a questo punto comunque mi sembra abbastanza definitiva oggi la sua riscoperta vogliamo procedere con le prossime due poesie ringrazio Marco Signorile e vi dico che sono si intitolano Nevai datata Madonna di Campiglio 1934 e Bellezza datata Milano 1934 questa questa seconda credo sia dedicata a Remo Cantoni sì la seconda per Remo Cantoni la prima è la mia poesia di montagna preferita al mondo e ho iniziato non da tanti anni a provare a fare scialpinismo so che c'è qui tra noi perché l'ho sentito parlare un po' di tempo fa un famoso velista che vorrebbe iniziare a fare dello scialpinismo e quindi lo invito assolutamente perché è bellissimo e questa è una poesia di scialpinismo nel senso che Antonio andava a sciare a Misurina a Madonna di Campiglio erano questi i suoi luoghi in Dolomiti e però sciare negli anni 30 significava mica prendere la funivia significava salire con le pelli e poi scendere sulla neve fresca e questo era quello che lei faceva quindi questa è una poesia di montagna d'inverno di una persona che è arrivata lì dove con gli sci e si sta preparando a scendere resti agli atti della serata che io l'ho fatto sciarpinismo ma alcuni chi li fa io fui nel giorno alto che vive oltre gli abeti io camminai su campi e monti di luce traversai laghi morti ed un segreto canto mi sussurravano le onde prigioniere passai su bianche rive chiamando a nome le genziane sopite io sognai nella neve di un'immensa città di fiori sepolta io fui sui monti come un irto fiore e guardavo le rocce e gli alti scogli per i mari del vento e cantavo fra me di una remota estate che coi suoi amari rododendri ma vampava nel sangue bellezza ti do me stessa le mie notti insonni i lunghi sorsi di cielo e stelle bevuti sulle montagne sulla brezza dei mari percorsi verso albe remote ti do me stessa il sole vergine dei miei mattini su favolose rive tra superstiti colonne e ulivi e spighe e ti do me stessa i meriggi sul ciglio delle cascate i tramonti e i piedi delle statue sulle colline fra tronchi di cipressi animati di nidi e tu accogli la mia meraviglia di creatura il mio tremito di stelo vivo nel cerchio degli orizzonti piegato al vento limpido della bellezza e tu lascia che io guardi questi occhi che Dio ti ha dati così densi di cielo profondi come secoli di luce inabissati al di là delle vette si aveva gli occhi azzurri Remo Cantoni e si lui questa se stessa non la volle perlomeno filo in fondo lei quando si innamorava era così e questo era Remo Cantoni lo collochiamo come amore numero due si lei si lo chiamò questo mio secondo amore lo chiamo così il terzo il terzo è il mio preferito come non volergli bene Dino Formaggio a partire da questo bizzarro cognome era un era un compagno aveva due anni di meno era più giovane di Antonia però era un suo compagno di corso si laureò dopo di lei e rispetto agli altri tutti questi che erano venivano evidentemente dalla buona borghesia alcuni un po' meno ricchi di Antonia però insomma il migliore era quello invece Dino Formaggio era uno che si era diplomato alle serali facendo il maestro elementare di giorno e le superiori no e diplomandosi no lavorando in fabbrica di giorno e diplomandosi di sera dopo il diploma avrebbe fatto il maestro elementare e studiato appunto con Banfi questo questo Dino fu il terzo e ultimo amore di Antonia e lo troviamo compare in maniera veramente un po' misteriosa perché dalle poesie e dalle lettere scopriamo che è arrivato qualcuno si capisce perché all'Antonia ci sono dei momenti della sua vita in cui non scrive più poesia ascolta il consiglio di quelli che le dicono lascia perdere non scrivere più e lei dice e lei quasi si impone questo mutismo come fosse un voto come fosse un voto di silenzio di una monaca come la sua carissima amica Lucia detta CIA la sua migliore amica si fa monaca di clausura questo sarà veramente un brutto colpo per lei e quindi ci sono questi mesi di silenzio specie negli ultimi anni in cui di poesie non ce ne sono e poi di colpo sei sette poesie in una settimana e lì io capisco che si è innamorata e quindi è arrivato qualcuno a un certo punto compare questo qualcuno in due sigarette le bracci di una sigaretta nella sera la periferia di Milano l'uscita di una fabbrica questa sigaretta che cade si spegne in una pozzanghera è proprio una visione modernista è cambiata nel frattempo la sua poesia anche se in pochi anni tra i 17 e i 26 insomma non c'è tutto questo tempo ma è cambiata da una poesia romantica è diventata una poesia molto più espressionista queste sono le sue ultime sono tutte immagini e quindi ti chiedi mi chiedo chi è questa seconda sigaretta con chi è che stai fumando fuori dalla fabbrica cosa ci fai laggiù in periferia perché non era la sua Milano e lei abitava via Mascheroni accanto all'arco della pace i suoi luoghi erano l'arco della pace il parco Sempione il castello la scala dove andava sempre il conservatorio dove sentiva la musica l'università statale Antonio era una di quelle persone che potevano anche non essere mai uscite dal centro di Milano e improvvisamente è davanti a una fabbrica era Dino era Dino che la porta nei suoi posti lui insegnava lì in piazzale Corvetto e la fabbrica quella fabbrica era forse la fabbrica dove lui aveva lavorato le voleva mostrare la sua Milano ed ecco che qui proprio in questo momento siamo verso la fine della sua vita siamo ormai nel 36 37 anche Milano compare nelle poesie quella città che non c'era mai stata perché forse lei non trovava nulla che la colpisse nella Milano del centro nella Milano Borghese ecco che entra nelle poesie ed è la Milano della fabbrica e della periferia ce ne sono un paio di bellissime periferia e via dei 500 questa via dei 500 è una via si chiama ancora così che è dietro piazzale Corvetto dove c'era una casa lì c'è un'altra delle lapidi che il comune di Milano ha lasciato alla Pozzi che si chiamava casa degli sfrattati perché era un ricovero dove andavano a finire quelli che avevano perso la casa perché erano stati sfrattati e venivano ospitati in questo casermone popolare dove le famiglie abitavano anche in 7-9 per stanza era una vera topaia lei lo ha descrivuto proprio così in cui andava con la sua amica Lucia che a questo punto era una novizia a fare volontariato a portare cibo vestiti generi di conforto e quindi questo luogo accomunava la sua migliore amica e questo suo nuovo grande amore poi lì vicino c'era un luogo che anche quello diventerà cruciale uno dei posti meno milanesi di Milano secondo me che è l'Abbazia di Chiaravalle se non ci siete stati vi invito un giorno che siete a Milano ad andare a vederla perché non c'entra proprio niente con Milano dietro Piazzale Corvetto parte la tangenziale ci sono le fabbriche queste case popolari poi di colpo iniziano i campi quello che adesso è il parco della Vettabbia parte del parco agricolo sud e quindi questi canali lì era tutta acqua una volta era tutta palude fu un luogo bonificato dai cistercensi nell'anno mille millecento che è proprio l'anno di costruzione di questa Abbazia di Chiaravalle che è ancora lì in mezzo alla campagna eppure sei ancora dentro il comune di Milano e quindi Condino dopo aver visto di tutto in questa poesia via dei Cinquecento lei descrive la puzza i corpi la brutezza di questo posto di questa casa degli sfrattati dove va la miseria poi vanno a prendere una boccata d'aria con le bici nei campi Abbazia di Chiaravalle forse si siedono da qualche parte spero che amoreggino un po' si scambiano qualche bacio e poi tornano a questo proposito non per buttarla sul gossip ma tu che impressione ti sei fatto avendo letto la Pozzi che lei che fossero amori platonici o che fossero ma nelle sue lettere a un certo punto è abbastanza chiaro che con il professore ma capisco quello che capisco io e per precisa volontà di lui non si siano mai sfiorati al di là di qualche casto bacio perché lui lei a un certo punto lo chiama nel diario tu che non avevi nemmeno un corpo alla bianca della mia giovinezza e tu che non avevi nemmeno un corpo mi sembra abbastanza chiaro il professore Antonio Maria Cervi dopo la Pozzi non si sarebbe mai sposato non avrebbe mai avuto nessuna relazione sentimentale di cui noi sappiamo anche perché tenne la sua foto di 17 anni per sempre sulla sua scrivania morendo scapolo a 65 anni credo più o meno il giorno dopo essere tornato a Pasturo dove veniva tutti gli anni a portare delle rose sulle tombe dell'Antonia il giorno prima di morire aveva portato un mazzo di rose e lasciato un biglietto con su scritto ancora alla mia Antonia il suo Antonello una cosa del genere poi morì di infarto a Milano il giorno dopo e quindi no invece Remo Cantoni era un grande Don Giovanni e quindi prendimi ti do la mia ti do me stessa credo che se la sia presa Remo Cantoni Dino Formaggio non vedo perché erano due ragazzi a un certo punto anzi lei scrive una lettera molto bella dove gli dice proprio ho voglia di far l'amore con te ho voglia di svegliarmi con te di stare a letto con te ho voglia di sentire il tuo testone di accarezzare il tuo testone di svegliarmi insieme a te in una baita di montagne molto bella romantica e anche un pochino erotica una delle sue ultime lettere quando ecco quando uno pensa a un suicidio pensa che tutto nella vita di un suicida stia convergendo verso questo precipizio invece lei due o tre mesi prima di di ammazzarsi scrisse vorrei svegliarmi con te in una baita di montagna tu brutto mostro lo chiama perché lei prima avevano litigato e lei gli chiedeva scusa per essere stata così nella lettera precedente e allora a un certo punto lo chiama fessacchiotto e si firma la tua fessacchiotina era così ecco questa ironia che dicevo prima anche questa leggerezza di cui lei era capace questa incredibile contemporaneità oggi non penseremmo mai che uno nel 1938 firmasse una lettera alla tua fessacchiotina o si rivolgesse all'amato chiamandolo tu brutto mostro perché non mi scrivi da una settimana e invece i ragazzi erano ragazzi anche nel 1938 e nella poesia questa cosa la senti sono pochi i poeti di cui non senti l'età no? Leggi una poesia degli anni 30 come quelle che abbiamo letto oggi chi è che potrebbe dire quando è stata scritta io non riuscirei e questa cosa è potentissima in lei ci avviamo verso la conclusione ti faccio ancora una domanda poi se tu hai tempo magari chiediamo al pubblico se hanno voglia di chiederti qualcosa la domanda finale è questa cioè cosa è successo poi appunto ne parlavi anche te no? fino nel momento in cui nasce un nuovo amore sembra piena di vitalità poi improvvisamente precipita c'erano stati dei suicidi nella sua famiglia vale qualcosa cosa questo cosa è successo insomma anche poi da un puntista pratico perché lei lei sceglie di lasciarsi morire a Chiara Valle probabilmente non a caso che era di eh beh indagare le ragioni di un suicidio è sempre difficilissimo c'è sempre una parte di mistero però alcune cose le sappiamo che suo nonno e una sua zia si fossero suicidati e quindi oggi diremmo che ci fosse una storia di depressione clinica nella parte maschile nel lato ramo maschile della sua famiglia è chiaro la storia con Dino per l'ennesima volta non va a finire bene perché? perché Dino non la vuole sposare Dino non la vuole sposare non so bene perché perché non è abbastanza innamorato di lei o perché non si vuole imparentare con questo Roberto Pozzi Dino è socialista è in contatto con il partito socialista clandestino sarebbe diventato partigiano poi durante la resistenza Roberto Pozzi è il podestà di Pasturo e a Milano credo anche una figura nota del fascio milanese quando lei gli dice vieni a casa mia che mio padre ha accettato di ascoltare la tua richiesta lei si era inventata questa cosa e le aveva già chiesto il permesso al padre di ricevere Dino Dino le dice guarda che io non voglio venire a casa tua a parlare con tuo padre questa è la sera prima del suicidio successe al conservatorio dove erano andati ad ascoltare un concerto e quindi questo sicuramente fu un colpo tremendo un altro colpo tremendo fu che siamo a questo punto nel dicembre del 1938 la situazione in Italia e in Europa sta precipitando le leggi razziali che erano del settembre l'avevano molto molto colpita tanti suoi amici erano ebrei due dei suoi amici fratelli Travis scappano e spatriano quel punto a Londra altri dei suoi amici non si sa cosa faranno in quanto ebrei non possono insegnare tutti questi sono laureati in filosofia in lettere le leggi razziali praticamente gli impediscono di avere qualsiasi tipo di carriera di futuro e non abbiamo non abbiamo prove del suo antifascismo io credo che questo sia anche un motivo per cui il padre poi distrusse i diari non so se in quei diari c'erano le avventure erotiche di Antonia Pozzi o dichiarazioni delle sue idee politiche forse entrambe le cose forse no comunque anche di sono abbastanza sicuro leggendo le sue lettere che il fascismo non le piacesse per niente e quindi ecco questa cappa che gravava sull'Europa e su e su quegli anni questa nessuna considerazione del suo essere poeta questi amori che poi diventavano tutti infelici penso che tutto abbia confluito la mattina del 2 dicembre del 1938 lei insegnava si era laureata da un paio d'anni insegnava ai bambini in una scuola elementare però quella mattina era dopo il rifiuto di Dino appunto arrivò a scuola in lacrime a un certo punto il preside se ne accorse le disse vai a casa non stai bene lei invece di andare a casa inforcò la bici e se ne andò a Chiaravalle che è abbastanza lontana dal centro di Milano quindi per fare mettere in atto il suo progetto dovete pedalare parecchio e ovviamente parlava di suicidio da da un pezzo come fanno i poeti parlava di morte parlava di cimiteri aveva già detto voglio essere sepolta qui aveva già detto ho trovato un pezzettino di terra nel cimitero di Pasturo dove mi piacerebbe essere sepolta tutti i suoi amici erano abituati a sentirla parlare di morte io credo che suo padre l'avesse già mandata dal dottore perché infatti quella mattina Antonia aveva in tasca un sacco di barbiturici che evidentemente le davano per farla stare tranquilla lei li prese tutti insieme si sedette in un prato e scrisse gli ultimi biglietti ai genitori a Dino un contadino la trovò che era ancora non in sé ma era ancora cosciente lei era in stato confusionale la vennero a prendere la portarono all'ospedale a quel punto tutti la stavano cercando addirittura il padre si era fatto la fantasia che si è preso un treno per Roma per andare dal professore lui era ancora rimasto si era perso un paio di di amori e invece la sua amica Lucia che forse la conosceva meglio di tutti inizia a cercarla per gli ospedali di Milano la trova al Fatebene Fratelli dove a quel punto non possono più fare nulla nel 38 lei ha perso conoscenza la portano a casa e muore il 3 dicembre ha lasciato un paio di biglietti ti volevo chiedere prima dell'ultima poesia se vuoi leggere tu l'ultimo biglietto perché tu tra l'altro ne fai poi un'analisi critica cercando di individuare di questo biglietto finale quanta sia la parte autentica il padre tra le cose distrutte distrugge anche questo biglietto da Dio cosa quasi incomprensibile se ci pensate l'unica la spiegazione che ci fosse scritto davvero qualcosa di compromettente che nel 1938 non si poteva dire perché altrimenti un padre che distrugge un biglietto da Dio della figlia quindi questa è una ricostruzione e lui anni dopo dice ah sì ma io me lo ricordo a memoria era scritto così e dice papà e mamma carissimi non mai tanto cari come oggi voi dovete pensare che questo è il meglio ho tanto sofferto deve essere qualcosa di nascosto nella mia natura un male dei nervi che mi toglie ogni forza di resistenza e mi impedisce di vedere equilibrate le cose della vita ciò che mi è mancato è stato un affetto fermo costante fedele questi sono aggettivi di Roberto Pozzi perché fermo costante fedele non li ho mai letti nelle lei usava altre parole che diventasse lo scopo e riempisse tutta la mia vita anche i miei bambini che l'anno scorso bastavano ora non bastano più i loro occhi che mi guardano mi fanno piangere fa parte di questa disperazione mortale anche la crudele oppressione che si esercita sulle nostre giovinezze sfiorite questo biglietto l'avrebbe ricostruito dopo la guerra ovviamente Roberto Pozzi direte alla nena cioè alla nonna che è stato un male improvviso e che l'aspetto desidero di essere sepolta a pasturo sotto un masso della grigna tra cespi di rododendro mi ritroverete in tutti i fossi che ho tanto amato e non piangete perché ora io sono in pace l'altro biglietto per Dino lui non l'avrebbe mai voluto rendere pubblico disse soltanto che era un biglietto in cui lei diceva che aveva scelto quel posto che era valle per loro due perché gli avevano passato dei momenti felici e il resto Dino non se l'è voluto tenere per sé Dino Formaggio è morto non da tanto gli ultimi personaggi di questa storia sono invecchiati di tantissimo Lucia l'amica Cia è morta tre o quattro anni fa cinque forse è veramente vecchissima e Vittorio Sereni il suo amico Vittorio il suo amico poeta qualche anno dopo le avrebbe dedicato leggiamo sì sì se vuoi introdurla è la lettura conclusiva era le avrebbe dedicato questa poesia appunto intitolata tre dicembre una bella poesia per un'amica lascio la voce a chi ce l'ha grazie all'ultimo tumulto dei binari hai la tua pace dove la città in un volo di ponti e di viali si getta alla campagna e chi passa non sa di te come tu non sai degli echi delle cacce che ti sfiorano pace forse è davvero la tua e gli occhi che noi richiudemmo per sempre ora riaperti stupiscono che ancora per noi tu muoia un poco ogni anno in questo giorno su questa bellissima poesia la parte pozzi per me è chiusa non abbiamo detto tutto ma abbiamo detto abbastanza per emozionarci per farci venire voglia di scoprirlo di riscoprirla forse una cosa che non ho detto è che c'è una traccia della mia valle la chiamo mia come lei chiamava Pasturo il suo paese che è la Val d'Aias infatti ho scelto questa copertina perché qui c'è questo è il rifugio Mezzalama è un rifugio 3036 metri se non vado errato che è in cima alla Val d'Aias su una bellissima morena glaciale tra due ghiacciai era stato costruito inaugurato nel 1934 e questa è una foto del 1938 quindi era nuovo di Zecca Antonio andò lì un autunno a camminare il rifugio è ancora esattamente così com'era è uno di quei pochissimi rifugi delle Alpi che non è mai stato ristrutturato ricostruito o distrutto e mi ha sorpreso questa estate siccome ci vado lì un po' in pellegrinaggio tutti gli anni entrare e trovare un quadretto dove c'è la foto dell'Antonio proprio questa foto con sotto una sua poesia quindi anche lì c'è un pensiero per lei in attesa in attesa in attesa che si scaldi il pubblico ti chiedo una cosa come si suol dire fuori sacco ma neanche tanto siamo al bordo di un lago e accanto a un lago trascorse due anni forse il più importante dei tuoi eroi letterari Toro autore di World nella vita nei boschi qual è il tuo rapporto con il lago ho scavato uno stagno e ho un giardino intorno alla baita che è diventato un po' è il mio giardino dei simboli è il mio luogo dei simboli e sono io l'architetto la casa non l'ho costruita io ma il giardino sì e quindi mi sono ispirato all'arboreto salvatico di Rigoni Sterne l'arboreto salvatico era questo libro in cui lui parlava degli alberi che aveva piantato intorno a casa sua e allora ho piantato i miei alberi del grande nord le betulle per la Siberia l'acero rosso per il Canada il pino silvestre per la Scandinavia e ho scavato uno stagno perché ho la fortuna di avere questo ruscello che scorre proprio accanto a casa ed è il mio Walden Pond il mio stagno di Walden che è lo stagno il lago sì lo chiamo stagno in realtà era un laghetto accanto a cui Toro andò a vivere per due anni e scrisse questo caposaldo del pensiero anarchico del pensiero ecologista del pensiero poetico anche Toro fa parte della mia vita anzi Toro c'è un tratto proprio per colpa del professor Keating del capitano vi ricordate quando lui entrava in classe e diceva andai nei boschi perché volevo vivere con pienezza succhiare tutto il midollo della vita e non scoprire un punto di morte di non aver vissuto questa era una frase di Toro che lui portava ai suoi giovani poeti quindi sì il mio appena penso lago penso a quello e lui diceva Toro diceva che il lago ha le qualità dell'anima il lago di Walden era molto particolare perché non aveva un emissario sorgeva era un lago sorgente e poi lì c'era un po' la leggenda che non si sapeva quanto fosse profondo perché non si sapeva dove fosse questa sorgente quindi lui diceva il lago ha le qualità dell'anima che sono la profondità e il mistero e questo è un po' il motivo per cui i filosofi ci vanno a meditare sulle sue rive questo è il rapporto che ho con lui sì Sara Vitale beh innanzitutto grazie una nota la mamma di Antonia Ponsi discende da Tommaso Grossi quindi questo è un piccolo passaggio che riguarda Bellano Tommaso Grossi è il poeta di Bellano e qui c'è un ulteriore filo che lega Antonia a Bellano invece no una domanda sulla poesia di Antonia Ponsi quando la poesia cambia diventa più espressionista hai spiegato molto bene quanto influisce secondo te la fotografia in questo cioè che poi il lavoro che hai fatto anche tu questo libro sì era una domanda sulla poesia che per chi non ha sentito su come cambia la poesia nel corso degli anni e come appunto secondo me diventa più espressionista lei inizia a praticare la poesia e la fotografia nello stesso momento sempre in questo fatti dico 1929 a 17 anni e quindi si può vedere un po' come questi due linguaggi si accompagnano e si modificano a vicenda negli ultimi anni la fotografia prende sopravvento proprio perché lei inizia un po' ad entrare in crisi con la sua poesia o forse la spingono ad entrare in crisi allora si affida molto di più alla macchina fotografica che evidentemente sente come un mezzo a quel punto senza parole non verbale più diretto e ci sono tantissime fotografie degli ultimi anni e allora vedi che la sua poesia quelle poche che a questo punto ci sono diventano piene di immagini rispetto all'inizio dove invece c'erano sentimenti e idee parole le ultime sono tutte immagini vi leggo questa via dei cinquecento che mi piace tanto o anche periferia no ma via dei cinquecento è bella pesano tra noi due troppe parole non dette e la fame non appagata gli urli dei bimbi non placati il petto delle mamme tisiche e l'odore odor di cenci di escrementi di morti serpeggiante per tetri corridoi sono una siepe che geme nel vento tra me e te ma fuori due grandi lumi fermi sotto stelle nebbiose dicono larghi sbocchi e acqua che va alla campagna e ogni lama di luce ogni chiesa nera sul cielo ogni passo di povere scarpe sfasciate porta per strade d'aria religiosamente me a te e l'aveva colpita moltissimo scoprire Berlino era andata a Berlino dopo i giochi olimpici del 36 la città era stata prima di essere Berlino ha avuto questi pochissimi anni in cui deve essere stata una città incredibile poi sarebbe stata completamente distrutta ma nel 36 era stata quasi riedificata dal nazismo e lei ci va nel 37 e la trova scrive lettere come di una persona che oggi non oggi ormai ma di quelle persone che arrivavano a New York e descrivevano i grattacieli vedendoli per la prima volta nella loro vita e diceva qui ci sono i cinematografi ci sono i teatri il villaggio olimpico le automobili nelle strade colpitissima da Berlino ancora più da Londra che da Londra qualche anno prima quindi andava al cinema e credo che tutto questo si l'avesse nutrita molto anche nella poesia sì non l'ho letta non so nemmeno se si trovi non ci ho pensato sinceramente ma lei ne parla poi in alcune lettere di quello che sta facendo nella tesi e di Flaubert le piaceva moltissimo quest'idea flaubertiana del lavoro di Lima dello scrittore quest'idea che contrasta un po' con l'idea romantica dello scrittore dell'artista come essere ispirato che compone in preda alla musa no Flaubert parlava proprio del lavoro certosino della fatica della fatica di scrivere delle ore al giorno passate al tavolo a limare le frasi e a ottenere la frase giusta e Antonia questa quest'idea la sentiva molto sua e per questo sentiva questa grande affinità con Flaubert e la vediamo quando lei mette questa doppia data nelle poesie perché a volte passano sei mesi a volte passa un anno tra la prima composizione e l'ultima di una poesia anche noi che magari non la pratichiamo pensiamo alla poesia come una cosa che un poeta a un certo punto in preda così agli spiriti si mette lì e butta giù invece evidentemente non è così o non era così per lei non ne ho idea si può andare a cercare la famosa tesi un'ultima domanda perché poi ci sarà il firma copie poi Paolo deve ripartire penso di averla inserita sì è un frammento in realtà perché il titolo è stato ma io mi ricordo questa forse un'altra in questo caso non ricordo quella che ha citato lei però leggo questa sì quando si dice appunto se c'erano o non c'erano i segni di quello che le sarebbe successo sì ci sono dei momenti insieme a questi momenti di ironia leggerezza amore erotismo ci sono anche dei momenti di disperazione proprio nera io non ne ho non ne ho parlato perché non ne parlo volentieri però a un certo punto ci sono dei momenti tremendi e questo è un frammento forse non è quella che ha citato lei ma è una poesia che mi ha ricordato scritto a Pasturo 8 ottobre 1936 in campagna di vento urlano i cani sul sonno delle mandrie all'addiaccio or sulle mani mi respiri tu solitudine lenta fatica d'amore questa è veramente una poesia che ho riletto tante volte urlano i cani le mandrie all'addiaccio c'è qualcosa c'è una c'è una ferocia in questa in questo mondo fuori che lei descrive e sulle mani mi respiri tu solitudine lenta fatica d'amore lascio a voi l'interpretazione di questi versi e vorrei essere lì a farle compagnia in questo momento grazie grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti